Tempo di botti di fine anno ed è corsa gli acquisti anche grazie alle bancarelle per strada. Fuochi legali e non nei fatti. La notte di San Silvestro sarà colorata e rumorosa nonostante le ordinanze dei vari comuni. Ma cosa fare per orientarsi nel pieno rispetto di legalità e sicurezza? Il nucleo artificieri anti-sabotaggio dei carabinieri di Chieti ha aperto le porte della caserma Rapino di Via Colonnetta e il comandante del nucleo investigativo del reparto operativo Placido a Batantonia, immediatamente raccomandato a grandi e piccini la massima precauzione, anche con i prodotti che rispettano le normative. Come facciamo a riconoscere un fuoco legale da uno illegale? Deviso sicuramente notiamo che i fuochi legali hanno una targhetta. Su essa è indicato la tipologia di prodotto, la classificazione, il modo di utilizzo, le distanze di sicurezza da tenere, la ditta produttrice, il decreto ministeriale che ne autorizza la vendita, la commercializzazione. Il decreto legislativo del 2015, il 123, individua quattro categorie di pericolosità dei fuochi d'artificio. La F1, la F2, la F3 e la F4. Chiaramente la F1, in base alla pericolosità, è la categoria meno pericolosa, destinata a ragazzi sempre superiori a 14 anni, quindi sotto i 14 anni i ragazzi non possono né utilizzare né acquistare fuochi d'artificio. Da 14 anni in su possono acquistare gli F1. Già gli F2, che sono un po' più pericolosi, sono a pannaggio dai 18 anni in su. E poi ci sono i cosiddetti fuochi F3, destinati a un utilizzo limitato al porto d'armi o come da licenza del questore, e gli F4, va da sé, destinati alla categoria dei pirotecnici. Si spera anche di non replicare l'anno pre-Covid in fatto di prodotti illegali. L'ultimo sequestro, prima della pandemia, parliamo del 2019, in Chieti, circa 200 kg di fuochi d'artificio, tra legali, illegali e scatuti. Che cosa mi aspetto? Che la gente usi il buonsenso, se proprio deve divertirsi con i fuochi d'artificio, li vada a comprare dove è previsto che vengano venduti. Infatti acquistare sempre da persone che siano in grado di saperli utilizzare, sapere come funziona un fuoco d'artificio, o altrimenti il consiglio spassionato è quello di rimanere a casa e vedere i fuochi d'artificio magari da dietro una finestra o in piazza, qualora vengano organizzati in piazza dove si va a festeggiare.